Buongiorno signori, benvenuti alla decima edizione del Festival Leggendo Metropolitano. A ora inizio l'intervento l'Italia non è un paese per giovani. Diamo il benvenuto a Francesco Cancellato. A Gianfranco Viesti, conduce Stefano Usai. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Partiamo con le presentazioni. Francesco Cancellato è un economista, un giornalista, il direttore dell'inchiesta. Gianfranco Viesti è un professore di economia applicata all'Università di Bari. Io sono Stefano Usai, anche io economista, collega quindi di Gianfranco. È presidente di una facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche. Sono qua per parlare di questo tema, dell'Italia che non è un paese per giovani. Partiamo da questo titolo per riprendere alcune frasi che sono riportate nel libro. Una è nel libro di Gianfranco, attribuita al governatore Mario Draghi, governatore della BCE, che dice che il nostro destino non è irreversibile, che le cose possono mutare. Quindi il successo di un paese non è scontato. Mentre nel libro di Francesco c'è un'introduzione di Tomaso Nannicini che ci dice che l'Italia è un paese stanco, è un paese che sembra non più capace di crescere, che sostanzialmente si sta adagiando lungo un piano inclinato, una sorta di dolce declino. Queste due immagini sono immagini che ricorrono nella ricostruzione che viene fatta in questi due libri. C'è questa immagine dell'Italia che sostanzialmente sta di fronte a questo baratro e non è consapevole probabilmente di esserlo e non sta facendo niente per prenderne consapevolezza, prendere coscienza e tirarsi indietro sostanzialmente. Questo è uno dei fili rossi che legano sicuramente questi due libri, che sono due libri che mi ha fatto davvero molto piacere leggere perché sono due libri che mettono insieme due visioni, la visione accademica e la visione giornalistica ma con un rigore, un'attenzione ai dati che li accomuna molto. Naturalmente per la parte accademica è scontato, magari meno per la parte giornalistica. Sicuramente c'è una grande tensione a comunicare, a trasmettere un messaggio che può essere letto da tutti e capito da tutti e questo è sicuramente un aspetto molto importante. A questo punto chiederei a Francesco e a Gianfranco di farci capire un po' meglio che cosa sta succedendo, cioè perché questo paese non è un paese per giovani e quali sono i rischi che stiamo correndo, quali sono sostanzialmente gli elementi che ci permettono di trarre questa conclusione che non è un paese per giovani e quali sono i rischi che corriamo. Francesco. Grazie a tutti voi, grazie a Leggendo Metropolitano per l'invito. Per cominciare c'è una piccola storiella che vorrei raccontare, è una barzellettina, ma credo che renda bene l'idea. C'è questo signore che sta entrando in autostrada con la macchina, però in bocca contro mano l'autostrada. A un certo punto, mentre schiva la prima macchina, schiva la seconda macchina, lo chiama la moglie e gli dice dove sei? Sono in autostrada. Ma sta attento perché alla radio hanno detto che c'è un pazzo che è entrato in autostrada contro mano. lui dice guarda cara, mentre schiva le macchine, ci sono mille pazzi che si stanno contro mano in autostrada. Questa secondo me, tu hai usato una parola molto importante che è inconsapevolezza, e la sensazione è che questo nostro paese sia inconsapevole di essere contro mano in autostrada. Mi spiego, quando noi parliamo di questione generazionale, quando parliamo di un paese che non è per giovani, noi non parliamo di un mondo che non è per giovani, noi parliamo, al contrario, di un mondo che forse non è mai stato per giovani quanto lo è oggi. Faccio tre, quattro esempi per rendere l'idea. È un mondo in cui, parliamo di mondo occidentale, parliamo di Europa, il mondo occidentale non ha conosciuto guerre in quest'ultimo periodo. Io personalmente sono nato nel 1980 e non c'è mai stata una guerra in Italia dal 1980 a oggi, non c'è stata neanche dal 1945 a oggi a dire il vero. Ho potuto studiare, ho fatto un percorso di studi che poteva addirittura permettersi il lusso di alcuni fallimenti educativi, quindi potevo sbagliare l'università, cambiarla, ricominciare. Non c'erano problemi, non avevo carestie, non avevamo impedimenti nel poter proseguire il nostro ciclo di studi, di carattere familiare, di carattere economico. Peraltro nel contesto di un paese che aveva un patrimonio privato, una ricchezza privata, l'abbiamo calcolata circa due volte il PIL, la ricchezza del patrimonio italiano, che mi consentiva anche di poter fallire da un punto di vista lavorativo. E voi sapete bene quanto la possibilità di fallire in realtà sia la precondizione del potersi prendere dei rischi. In tutto questo, in un contesto in cui il capitale umano, la conoscenza e l'innovazione non sono mai stati importanti quanto oggi. Da quando sono nato più o meno ci sono state due, alcuni dicono tre, alcuni dicono che siamo già all'inizio di una quarta rivoluzione industriale, quella del digitale, quella dell'internet delle cose, quella dell'automazione della robotica e qualcuno già prefigura la rivoluzione dei computer quantici. La legge di Moore aumenta le capacità di calcolo in maniera esponenziale, rende quello che era un processore che probabilmente stava in questa stanza per fare operazioni di calcolo, oggi un piccolo chip che possiamo metterci nelle tasche che ha capacità di calcolo ancora superiore. Questa rivoluzione nanotecnologica, questa rivoluzione delle piccole tecnologie in realtà moltiplica le possibilità di ciò che noi possiamo fare, dei problemi che possiamo risolvere con la tecnologia e rende chi esce oggi 7 giugno 2018 dall'università estremamente più consapevole del presente di me che dall'università ci sono uscito da qualche anno di più. L'ultimo che arriva è quello che ne sa di più, che ha studiato di più, che ha le potenzialità per studiare, che ha un patrimonio ottimo alle spalle e in grado di permettergli di rischiare. Tutto questo configura un mondo per giovani. Noi guardiamo i dati dell'Italia e ci rendiamo conto che non è un paese per giovani, è un paese che non cresce, è un paese che accumula debito pubblico, che sommato alla scarsa crescita diventa un cocktail letale che poi dovranno ripagare le future generazioni in futuro, è un paese che depriva se stesso di capitale umano, abbiamo avuto dal 2000 al 2015 65.000 immatricolazioni in meno all'università, abbiamo una percentuale di laureati, poi questo lo dirà meglio il professor Viesti, che è al 18% sul totale della popolazione, che è estremamente più bassa rispetto agli obiettivi che c'eravamo preposti e alla media dei paesi benchmark, dei paesi con cui ci confrontiamo, quindi Germania, Francia, Regno Unito. Abbiamo una disoccupazione giovanile che è qualcosa di completamente anomalo rispetto al mondo, cito un piccolo esempio, un paese come la Germania, che è un paese manifatturiero, che è un paese simile all'Italia per molti versi, è un paese in cui la disoccupazione giovanile durante la crisi è diminuita, è arrivata al 7%, poco più alta rispetto alla disoccupazione generale che è adesso attorno al 5-6%, laddove in Italia durante la crisi la disoccupazione giovanile è schizzata anche a 20 punti sopra al 2007. Il mio libro è in generale la volontà di mettere al centro delle questioni di questo paese, la questione generazionale ha un solo intento in fondo, quello di porre l'attenzione sulla evidenza e sull'inconsapevolezza che ha questo paese, che la sua benzina, la sua forza, la sua unica speranza da un certo punto di vista è la valorizzazione del capitale umano e in particolare la valorizzazione del capitale umano giovanile e lasciatemi dire in particolare la valorizzazione del capitale umano giovanile e femminile, noi perdiamo 88 miliardi all'anno di ricchezza a causa delle donne che non riusciamo a fare entrare nel mondo del lavoro e parliamo forse del capitale umano migliore che abbiamo visto che su 100 laureati con 110 elodi 60 sono femmine e 40 sono maschi, un paese che rifiuta scientemente di cambiare e continua pervicacemente ad andare contro mano non rendendosi conto che sta andando contro mano, non rendendosi conto che in qualche modo si sta privando delle sue armi migliori è un paese destinato a fallire, fallire non intendo default, fallire da un punto di vista proprio di missione sociale che questo paese ha, di missione economica, di capacità di evolvere, di crescere, da questo punto di vista a mio avviso ciò che chiamiamo questione generazionale è la vera grande questione di questo paese. Ottimo, ci troviamo a passarci il testimone, naturalmente devo iniziare ringraziando, leggendo Metropolitano per l'invito, la città di Cagliari per questa accoglienza, come sempre Stefano Usai che ha accettato di conversare con noi, come sapete tutti all'università di Cagliari c'è un gruppo di economisti di grandissimo valore nel quadro europeo, quindi noi di Bari che siamo un po' più marginali, abbiamo rapporti con loro con molto piacere perché sono molto bravi, fanno un sacco di cose utili, dialoghiamo e cooperiamo. Io mi occupo di sviluppo regionale, di sviluppo dei paesi e quindi concordo con l'analisi di Cancellato sulle difficoltà di crescita del nostro paese che si ripercuotono in particolare sulla fascia giovanile. Però il tentativo che ho provato a fare è quello di concretizzare molto queste difficoltà perché tante volte ci sembra che ci cadano dal cielo, che siamo sfortunati, che è capitato questo, che non si sa bene quello che dobbiamo fare e invece una parte di queste difficoltà ha delle radici nelle scelte che vengono fatte e di questo dobbiamo renderci conto perché ovviamente possiamo essere di opinioni anche molto diverse sulle scelte che vengono fatte, il succo della democrazia è questo, però dobbiamo capirlo. Tante difficoltà non cadono dal cielo, ma ce le costruiamo attraverso delle politiche pubbliche sbagliate. Le politiche pubbliche sono importanti. È vero che una parte dei nostri problemi viene anche dalla minore dinamicità del tessuto sociale, delle imprese, ma quello che si fa o non si fa con le politiche pubbliche resta molto importante. Solo che le politiche pubbliche sono diventate un po' più oscure, nel senso che per i cittadini non è così facile capirle. Allora il tentativo che sto facendo, che ho fatto per alcuni anni nelle mie attività di ricerca è quello di individuare una politica pubblica in particolare e andarmela a studiare, che è la politica per l'università. La politica per l'università è quanto di più noioso ci possa essere. Io me ne ero completamente disinteressato, lavorando nell'università, perché mi sembrava una cosa noiosissima, un sacco di atti amministrativi, un quacervo di norme, però a un certo punto è capitata occasione di fare una ricerca piuttosto ampia sull'università e quindi con spirito di servizio come noi abbiamo tante volte con altri 18 colleghi ci siamo messi a studiarcele e abbiamo innanzitutto prodotto un rapporto di ricerca piuttosto ampio, diciamo per gli specialisti che è stato anche questo pubblicato, ma abbiamo cercato di arrivare al succo della storia e con l'ultimo passo di raccontare questo succo della storia ai cittadini, perché molti nostri colleghi già lo sanno, un po' se ne discute, ma chi non sa quali politiche per l'università si stanno facendo nel nostro paese e che conseguenze hanno, sono i cittadini e quindi un tentativo di avvicinare questi cittadini a una materia ostica, nel senso che io difficilmente comprerei un libro che parla dell'università perché mi sembra una cosa per gli universitari e invece il tentativo è proprio quello di avvicinare i cittadini dicendo che una parte delle difficoltà che Cancellato descrive nel suo libro vengono da queste scelte. Perché vengono da queste scelte? Perché il mondo di oggi è un mondo, ancora più quello di domani, nel quale la conoscenza è molto importante, diciamo fabbrichiamo meno cose, produciamo più servizi, in quello che noi facciamo c'è bisogno di più conoscenza, l'operaio che partiva dalla Sardegna o dalla Puglia 60 anni fa e andava a Torino, veniva direttamente dalle campagne, andava a lavorare in fabbrica, era un mondo nel quale la sua forza, il suo impegno era sufficiente per entrare nel circuito economico. Oggi sempre di più invece l'economia funziona in base, grazie a persone che hanno delle conoscenze, che mettono insieme alle conoscenze di altre persone nelle città e producono Google, producono Spotify e producono servizi avanzati, tutto quello che c'è. Quindi questo è molto importante. L'altro pezzo molto importante è che noi siamo una società, non solo come tutti abbiamo in mente il film dei Cohen, non è un paese per vecchi, non è un paese per giovani, diciamo con un divario generazionale, ma anche siamo una società con un divario tra ricchi e poveri, del quale si parla poco, invece bisognerebbe parlare di più, siamo una società disuguale, nel quale la casa in cui nasci determina molto della tua sorte futura. Questo non va bene, ognuno ha le sue idee, a me non piace per niente da un punto di vista politico-sociale, ma non va bene neanche da un punto di vista economico, perché un paese che cresce deve far andare avanti le persone più in gamba, le persone più intelligenti, siano essi figli di un notario o figli di un agricoltore o di un operario. Da entrambi questi punti di vista l'università è decisiva, non è l'unica cosa. Ci sono tanti le pensioni, il reddito di cittadinanza, la povertà, tutto quello che volete, ci sono tanti altri pezzi, però questo pezzo oggi è particolarmente importante, perché una cosa che possiamo fare per rendere il nostro paese più dinamico e per rendere il nostro paese meno disuguale, o meglio con la disuguaglianza meno bloccata, è quello di mettere le ragazze e i ragazzi di questo paese in maggiore condizione, in maggiore condizione, di andare avanti nella vita e da questo punto di vista andare all'università o non andare fa una grossa differenza. Anche qui ci sono tanti casi di successo di persone che nascono dal niente, di insuccesso di persone laureate, ma nell'insieme i paesi in cui più ragazzi vanno all'università vanno meglio dei paesi in cui meno ragazzi vanno all'università. Che cosa stiamo facendo noi in Italia rispetto a questo tema? Stiamo riducendo fortemente, ma molto fortemente, l'investimento in università. Dico solo due battute e poi ripasso la parola a Stefano, magari poi ne riparliamo dopo. Diciamo, sono almeno dieci anni che, uno, abbiamo ridotto di circa il 20% il finanziamento dell'università che era molto minore rispetto a quello degli altri paesi. Vi dico, non dico tanti numeri, ma uno che è semplice, noi spendiamo noi Italia 7 miliardi per l'università, la Germania 30, non 9 che è più di 7, non 14 che è il doppio di 7, 30 contro 7, la Francia 24. Quindi già spendevamo poco, adesso spendiamo molto di meno. Per spendere molto di meno abbiamo, scusate se lo dico, bloccato gli stipendi dei professori universitari per tanti anni, che è una cosa che non ci fa particolarmente piacere, ma soprattutto abbiamo chiuso le porte dell'università. Per cui tutti i ragazzi in gamba li abbiamo messi o a fare i precari, sottopagati e senza prospettive, oppure li abbiamo detto quella è la porta del nostro paese, vattene in Francia, in Spagna e in Inghilterra, che lì ti fanno lavorare. Questa bella operazione l'abbiamo condita di un altro elemento molto importante, che è abbiamo fatto figli e figliastri, cioè abbiamo tagliato le risorse a tutto il sistema universitario, ma a un pezzo del sistema universitario le abbiamo tagliate poco e a un pezzo del sistema universitario le abbiamo tagliate moltissimo. e questo è avvenuto, adesso chiudo, ho già detto che chiudevo, ti ripasso la parola, poi magari ne parliamo, su come mai, come mai non se ne è accorto nessuno, chi l'ha fatto, tutte cose che dico dopo, ma devo arrivare a Cagliari, devo tornare a Cagliari col mio giro. figli e figliastri abbiamo tenuto, diciamo, costante, un po' ridotto il finanziamento di alcuni Atenei, abbiamo tagliato selvaggiamente il finanziamento di altri Atenei. L'Ateneo di Cagliari è uno di quelli che ha avuto i tagli maggiori. Gli Atenei delle isole sono stati massacrati da questa politica, mentre gli Atenei prevalentemente di Lombardia, Veneto ed Emilia sono stati mantenuti a un livello di finanziamento che non è niente di che, per cui i nostri colleghi di Milano o di Padova, che sono splendide università, fanno bene a lamentarsi. Ma noi ci dobbiamo lamentare, diciamo, Bari è un po' una via di mezzo, in serie C, diciamo, Cagliari è in serie D, che è l'ultima come tagli. Quindi abbiamo fatto anche una politica che ha dei connotati territoriali molto forti, abbiamo fatto una politica che ha dei connotati, lo vedremo, sociali molto forti, perché naturalmente abbiamo un investimento in questo quadro complessivo di sottoinvestimento per il diritto allo studio, limitatissima. Noi 250 milioni, i francesi 2 miliardi e mezzo. Non 280, non 500, noi 250, loro 2 miliardi e mezzo. Tutto questo perché? Perché dobbiamo guardare avanti, dobbiamo uscirne in positivo, dobbiamo lasciare, io non sono nato nel 1980, sono nato qualche anno prima, diciamo, dobbiamo lasciare, noi che insegniamo all'università, un posto migliore, ma per lasciare un posto migliore dobbiamo andare a mettere il dito nella piaga e dunque individuare questi temi perché la giustissima denuncia possa avere, come dire, delle risposte, delle scelte che vengono fatte dal nostro Paese sulla base delle preferenze dei cittadini e delle preferenze della politica. Il male italiano non cade dal cielo, in grande misura è frutto di cose che abbiamo o non abbiamo fatto. Questo non deve portarci a intristirci, deve portarci a reagire perché non abbiamo perduto ancora e abbiamo davanti a noi la possibilità di invertire la rotta, di ricominciare a crescere nonostante le cose molto serie che abbiamo. Ma per fare questo bisogna sapere dove andare. Allora, ripartiamo da alcune considerazioni. Siamo arrivati un po' anche al tema finale che riprenderemo e cioè quali sono un po' le soluzioni perché potremmo intristirci parecchio con alcune considerazioni che sono svolte in questi due libri. Però proviamo appunto per disegnare il migliore dei futuri possibili. Proviamo a capire il processo che ci ha condotto di fronte al baratro. Nel secondo capitolo probabilmente, se non ricordo male, parli di un errore lungo 40 anni. Ci si chiede com'è che ci possa perseverare in un errore, una serie concatenata di errori per tanto tempo. Perché non abbiamo avuto anticorpi sociali, politici? Perché non ci sono stati meccanismi che ci hanno ricondotto sulla reta via? Perché anche le buone iniziative che ci sono state poi sono state incapaci di creare dinamiche positive? Questa è una delle domande che vi rivolgo. Però a questo proposito mi viene anche da chiedermi, rifacendomi anche al tema del festival, cioè tengo famiglia. Però forse alla fine un errore lo stanno compiendo anche i genitori perché se stiamo parlando di questione generazionale e stiamo parlando di un paese che non si accorge che non sta investendo sui giovani vuol dire che è il paese che non sta investendo sui figli e il paese sono anche i genitori. E quindi c'è anche una colpa che possiamo ascrivere ai genitori rispetto ai figli. I genitori che probabilmente troppo spesso parlano dei loro diritti acquisiti e troppo poco spesso invece parlano dei diritti che devono acquisire i figli per avere un futuro migliore come diceva Gianfranco. Se l'errore è lungo 40 anni diciamo che ognuno di noi ha una quota parte di responsabilità. Almeno una volta a votare ci siamo andati tutti più o meno in questa sala. La sensazione mia è che non è vero che in qualche modo un errore non può essere lungo. Gli errori si affastellano l'uno sull'altro. Molto spesso anzi una coppia di errori generano altro errore tre errori ne generano un quarto. Molto spesso perché si fanno riforme incomplete si fanno riforme anche in buona fede ma sbagliate si fanno in ritardo, si fanno male si fanno facendo compromessi sbagliati al ribasso. Si cerca di tenere insieme caprecavoli in qualche modo di mitigare il conflitto mitigare anche quelle che possono essere i cambiamenti drastici. La macchina contro mano se va girata non basta fare delle piccole sterzate bisogna fare un giro di 180 gradi un giro di 180 gradi molto spesso è traumatico. Quando abbiamo cominciato a sbagliare in realtà non eravamo contro mano. l'Italia negli anni 70 era un paese attraversato da diversi conflitti sociali un paese comunque che usciva da un periodo di grandissima conflittualità da una crisi energetica come nel 72 ma era ancora un paese che cresceva bene con un debito pubblico per cui oggi faremo i salti di gioia attorno al 60% del PIL e con degli spazi di manovra molto elevati per costruirsi bene il futuro. Oggi noi camminiamo su una strada strettissima al tempo la strada era molto larga. Abbiamo fatto un primo errore a mio avviso che è stato quello di nel passaggio tra il fordismo e il postfordismo quando la grande fabbrica lasciava spazio diciamo alla prima rivoluzione dei servizi che per noi peraltro è stata una rivoluzione manifatturiera perché poi il nostro capitalismo fordista si è evoluto in un postfordismo fatto di piccole fabbriche, distretti industriali medie imprese globali via via nel tempo. Allora non lo sapevamo, allora abbiamo pensato che in qualche modo bisognasse emancipare l'Italia dall'idea che la scuola fosse uno strumento di professionalizzazione che in qualche modo dovesse portare al mercato del lavoro. Per Mimesi, e basta vedere un film come il posto di Armando Olmi le classi, le scuole erano costruite come se fossero degli uffici le stesse laboratori tecnici degli istituti tecnici ricordavano le officine in cui le persone sarebbero andate a lavorare c'era uno strettissimo legame tra ciò che andavi a studiare e ciò che dovevi diventare anche perché ciò che dovevi diventare bene o male era il tuo lavoro per tutta la vita negli anni 60, negli anni 70 una volta che avevi il posto come dice Olmi era il tuo posto per tutta la vita quindi se nascevi operaio a Mirafiori che probabilmente finivi la tua vita professionale operaio a Mirafiori se nascevi macchinista ferroviario finivi la tua vita macchinista ferroviario se iniziavi la tua vita da impiegato finivi la tua vita da impiegato era una vita diversa quando cambia questo processo si pensa che la scuola debba costruire dei cittadini che in qualche modo debba rompere il cordone umbilicale col mondo professionale questa cosa diciamo riesce e non riesce nel senso che non so se abbiamo creato dei buoni cittadini di sicuro abbiamo cominciato a rompere un legame tra scuola e lavoro che ci portiamo ancora oggi non è un caso che tra il 77 e l'87 anni in cui l'economia cresce anni in cui il debito pubblico non aumenta in maniera devastante sono anni in cui noi abbiamo il primo grande balzo della disoccupazione giovanile che passa dal 20% che era al 30% parliamo di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni che è un po' la proxy la fascia d'età che noi individuiamo confrontandola con altri paesi per misurare la disoccupazione giovanile e perché aumenta così tanto la disoccupazione giovanile? perché i giovani cominciano a far fatica una volta usciti dalla scuola a trovare lavoro a capire dove devono andare perché si disorientano rispetto a un po' un mondo che sta cambiando è una scuola che non li professionalizza più primo errore il secondo errore nel decennio successivo 87-97 che è il decennio delle occasioni mancate in mezzo c'è di tutto c'è la caduta del muro di Berlino la fine dei grandi blocchi c'è Tangentopoli che disarticola completamente il quadro politico italiano fa scomparire un'intera classe politica c'è l'entrata nell'Unione Europea prima ancora c'è l'uscita da serpentone monetario quindi una forte svalutazione della lira una fase di crisi economica molto marcata e un passaggio all'euro abbastanza traumatico da questo punto di vista tutte situazioni che in qualche modo ci deconcentrano rispetto a quello che è l'obiettivo principale di quel periodo cioè mutare l'architettura del mercato del lavoro mutare l'architettura del sistema di welfare mutare l'architettura in qualche modo del sistema anche pensionistico che sono centrali in quella fase perché non c'era la legittimità e la forza politica per farlo molto banalmente e se non curi la malattia in qualche modo ne curi i sintomi il sintomo si chiama conflitto sociale la cura del conflitto sociale si chiama debito pubblico negli anni tra l'87 e il 97 il debito pubblico cresce a dei livelli spaventosi arriva a superare il 100% del PIL arriva addirittura oltre al 107-108% del PIL il decennio successivo si apre con quelle riforme che non abbiamo fatto ma lo facciamo in un modo completamente diverso rispetto ad altri paesi io vi invito a contare più o meno dal 97 a oggi quante riforme della scuola quante riforme del lavoro quante riforme delle pensioni quante riforme dei cicli universitari e quante riforme del welfare anche in generale sono state fatte da allora a oggi sono state fatte una via l'altra da ogni singolo governo senza misurare gli effetti delle riforme precedenti senza capire che la riforma non è una cosa che a uno schiocco di dita cambia un sistema paese io ho visto i dati la riforma Fornero l'altra quella del mercato del lavoro io ho visto titoli di giornali che dopo due mesi dall'approvazione di quella riforma dicevano la riforma del lavoro non funziona perché i posti del lavoro sono diminuiti cioè si chiedeva a una riforma di essere taumaturgica nel giro di due mesi dalla sua approvazione peraltro su dati del lavoro che addirittura anticipavano l'entrata in vigore della riforma stessa non voglio citare sempre l'esempio della Germania mi riesce molto facile però e riesce molto facile perché come diceva il professor Viesti l'esito di scelte politiche è quello che ci portiamo dietro i tedeschi hanno fatto una riforma divisa in quattro l'hanno chiamata Arts è più o meno diciamo avuto luogo in quel periodo tra il 98 e il 2002 il 98 la Germania era il grande malato d'Europa secondo l'Economist tra il 98 e il 2002 la Germania cambia il suo sistema scolastico, il suo sistema di welfare il suo sistema del mercato del lavoro, il suo sistema pensionistico tutto assieme, tutto organico tutto legato chi fa quelle riforme ha la consapevolezza che tutto si tiene perché tutto in qualche modo deve essere coerente noi abbiamo incoerenza di riforme che cambiano al cambiare di ogni governo peraltro l'una incoerente con l'altra perché oggi fai la riforma della scuola domani fai la riforma del welfare, degli ammortizzatori sociali dopo domani fai la riforma del lavoro e poi le ricambi in una sorta di giostra continua di cambiamento per cui non si sa oggi come oggi nemmeno cosa c'è quando il Movimento 5 Stelle a queste elezioni propone il reddito di cittadinanza il Movimento 5 Stelle ignora che esistano naspi e reddito di inclusione che in qualche modo assieme fanno esattamente la loro proposta il Partito Democratico che è la forza politica in qualche modo così come il centro-destra peraltro che osteggia maggiormente la riforma del reddito di cittadinanza non si accorge che un riformista chiamato Marco Biaggi nel 2002 nel suo libro bianco sul mercato del lavoro riformista di sinistra per un governo di centro-destra scrive nel suo libro bianco del lavoro che l'Italia se vuole avere un mercato del lavoro flessibile deve garantire un sistema di ammortizzatori sociali universale che lui chiama reddito minimo garantito che non è altro che il reddito di cittadinanza che è stato oggetto della campagna elettorale del 2018 e che abbiamo chiamato però in un altro modo terzo errore quindi facciamo riforme a casaccio alla Treo si sostituisce la Biagi alla Biagi si sostituisce la Fornero alla Fornero si sostituisce il Jobs Act adesso probabilmente andremo a cambiare persino il Jobs Act uguale per le pensioni, uguale per la scuola col risultato che abbiamo una scuola non professionalizzante abbiamo un mercato del lavoro flessibile che però genera precariato perché se non hai ammortizzatori sociali universali perché guardate che l'ammortizzatore sociale universale non è nient'altro che quella cosa che ti permette in un mercato del lavoro che non è più a posto fisso ma di transizioni tra un lavoro e l'altro di poter a causa del fatto che la tua impresa chiude che le condizioni tecnologiche cambiano e tu diventi disoccupato tecnologico o del fatto che ti rompi le scatole di fare quel lavoro e ne vuoi cercare un altro di fare reskilling di riformare le tue capacità di acquisire nuovi saperi di acquisire nuove competenze di rimetterti in gioco di cercare un altro lavoro e in quei due, tre, quattro, cinque, sei mesi c'è qualcuno che ti sostiene in questo lo Stato un ammortizzatore sociale quindi noi avevamo una scuola non professionalizzante un mercato del lavoro che precarizza perché dobbiamo usarla questa parola precariato altrimenti non capiamo questo mercato del lavoro ammortizzatori sociali inesistente praticamente il welfare uno dei welfare più cari d'Europa è una rete d'oro e ha un buco in mezzo in quel buco precipitano i giovani che hanno studiato in scuole non professionalizzanti che hanno condizioni di lavoro precarie che non hanno i loro genitori perché le riforme vengono fatte solamente ai margini cioè sui nuovi contratti e che non hanno un sistema di welfare adeguato al loro mercato del lavoro il risultato 2007 2017 arriva la crisi più potente della storia dell'umanità almeno della storia moderna dell'umanità o comunque la crisi più grande da quando esiste il libero mercato la disoccupazione giovanile schizza dal 20 al 40% di fatto la crisi la doppia crisi prima quella del 2008-2010 poi quella del 2012 2011-2012 la pagano quasi interamente le giovani generazioni un dato ce lo dà Tito Boeri all'Inps ed è uno degli ultimi dati che ha pubblicato lo potete trovare sul dito dell'Inps negli anni della crisi il patrimonio la ricchezza detenuta dagli over 65 aumenta la ricchezza detenuta dagli under 35 diminuisce le fasce di povertà nuove che si creano sono in misura maggiore under 35 in misura preponderante all'interno degli under 35 dai minorenni il che vuol dire famiglie con figli non a caso l'Italia è un paese che fa 1,37 figli per coppia più o meno 63 0,63 punti lontani da quel tasso di sostituzione di due figli per coppia e siamo un paese che ha una situazione demografica tale e qua è l'MF che lo dice che renderà di fatto insostenibile la capacità di un sistema pensionistico di sostenersi da qui al 2045 se continueremo a fare più o meno 400 mila bambini all'anno continuiamo a farci un po' del male cercando di capire come ci siamo poi proviamo a risollevarci e quindi torniamo al tema dell'università dove appunto anche qua ci sono degli errori lunghi diciamo però tu Gianfranco parli proprio di politica contro l'università e quindi c'è un carico maggiore c'è una responsabilità maggiore della parte della parte politica e anche là però non si spiega perché naturalmente i politici a parole nel corso degli anni sono sempre stati convinti dell'importanza del sapere della conoscenza l'importanza di questo fattore per renderci più competitivi e per renderci tra l'altro più anche capaci di confrontarci con gli altri paesi europei rispetto ai quali sia in termini quantitativi qualitativi siamo clamorosamente indietro quindi che cosa effettivamente è successo perché ci siamo spinti addirittura a fare una politica contro l'università tra l'altro alla fine convincendo tutti che fosse necessario perché la narrazione è che l'università è una narrazione che domina anche nei media l'università va combattuta così come adesso perché non vale il merito valgono i familismi valgono tutta una serie di meccanismi che sono di cooptazione interna che non non sono quelli giusti per un paese moderno sappiamo bene che l'università ce lo diciamo continuamente ha tutte le sue pecche tutti i suoi difetti ma non è così così male sentiamo sì sì mi piacerebbe molto seguire Cancellato che ha sollevato tantissimi temi tra l'altro quello demografico è un tema assolutamente fondamentale ma sarò molto disciplinato e starò raccoglierò le questioni che sollevava Stefano e continuerò sul mio tema e perché sono convinto che sia sono molto ottimista perché sono convinto che sia un problema di scelte che si fanno o non si fanno che non viviamo in un paese dannato che fa sempre tutto male ma è un problema di scelte che si fanno di fronte a un mondo che effettivamente in questo secolo è diventato più complicato e noi abbiamo costruito nella seconda metà del novecento un sistema pubblico con tanti pregi e tanti difetti ne avevamo molto poco ma abbiamo costruito un sistema che a molti italiani non piace fatevi un po' andate un po' in giro a chiedere che ne pensate della sanità in Italia che però ha anche molti pregi perché poi le organizzazioni internazionali ci dicono che il sistema della salute italiano è comunque uno dei migliori sistema scolastico un sistema universitario cosa c'è di narrazione sul sistema universitario lo diceva usai adesso un sistema di baroni un sistema di imbrogli nei concorsi dov'è il punto il punto è che noi abbiamo costruito un sistema pubblico con pregi e difetti costoso rispetto a quello che noi raccogliamo come tasse e quindi abbiamo un problema che lo Stato paga più di quanto in cassa e quindi di deficit non costoso in assoluto l'Italia spende meno degli altri paesi europei in genere per i suoi grandi servizi pubblici che è successo secondo me è successo che a un certo punto è venuta meno la fiducia di una parte della politica che questo sistema fosse riformabile e dunque è iniziato un processo straordinariamente interessante di riduzione di questo sistema non di miglioramento perché magari pensavano che noi non siamo capaci di aggiustare e di riformare le cose ma di riduzione di questo sistema il caso della sanità che guardo diciamo da cittadino è straordinariamente interessante di come stiamo riducendo moltissimo il sistema sanitario la stessa identica cosa è successo all'università e cioè all'improvviso nel 2008 2010 l'ha iniziato Giulio Tremonti di questo processo perché tutti i processi hanno i nomi e i cognomi prima di Tremonti c'erano luce ed ombre naturalmente del sistema universitario ma i dati che abbiamo ci dicono che non era affatto il peggiore del mondo che per quanto sia possibile misurare la sua efficacia cioè i soldi che noi paghiamo di tasse e che vanno nel mio stipendio o nelle borse di studio per i ragazzi sono buttati no non sono buttati abbiamo dei buoni risultati in molti ambiti abbiamo delle cose da migliorare in altri ambiti ma come dire la fatica del riformista è venuta meno è entrata soprattutto perché l'Italia naspava un po' nei primi anni 2000 dalla finestra questa scelta politica di ridurre fortemente il costo del settore pubblico e i grandi servizi pubblici questo è stato fatto con l'università perché noi abbiamo una cosa interessante è che noi sappiamo che ci sono le università statali no? le università di Caglia le università di Bari sono le università statali solo due terzi del finanziamento di queste università viene dalle risorse pubbliche ben un terzo viene da risorse private cioè principalmente dalle tasse della famiglia e da rapporti con le imprese questo un terzo è molto di più della Germania della Francia della Danimarca della Svizzera dell'Austria della Spagna cioè abbiamo fatto un passo molto forte nella riduzione di questo sistema abbiamo fatto una scelta una scelta che il settore pubblico italiano era poco 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 funzionante poco riformabile e quindi abbiamo come dire puntato sull'idea che si creasse consenso si ottenesse anche consenso dicendo ai cittadini tenetevi il più possibile i vostri soldi delle tasse pagate meno guardate è straordinario nell'ultima campagna elettorale quasi tutto lo schieramento politico diceva bisogna pagare meno tasse che è una cosa che ci fa pensare con la flat tax andiamo diciamo in vacanza io e Stefano o andiamo in vacanza ai Caraibi sei volte l'anno non è che siamo scontenti se ci tagliano le tasse è peccato che poi non troviamo più gli ospedali non troviamo più le scuole non troviamo più i soldi del finanziario chiusa la parentesi riprendo il filo e concludo dunque entrata dalla finestra con grande ritardo rispetto agli altri paesi questa ventata fortemente anglosassone questa ventata conservatrice anglosassone che ognuno ha le sue idee ma le idee politiche contano non siamo in un mondo post politico le scelte sull'università sono state scelte politiche poi sono state molto trasversali fra partiti certamente perché le ha iniziate Forza Italia poi sono continuate con i governi tecnici e sono state moltissimo spinte dai governi a guida del partito democratico quindi sono molto trasversali tra partiti ma sono delle scelte politiche sono delle scelte politiche di riduzione del settore pubblico e dell'università pubblica questo è molto importante dopodiché c'è sempre la questione territoriale diciamo del nord sud su cui magari torniamo e dunque le nostre disgrazie che Francesco Cancellato ha illustrato sono fortemente connesse alle scelte che noi facciamo o non facciamo e ripeto a mio avviso questa è un'ottima notizia perché il paese comunque ha delle difficoltà ma siamo anche in un paese forte viviamo anche in un paese con un grande patrimonio in un paese ricco non è che ce la passiamo male ma dipende dalle scelte che si fanno allora noi abbiamo fatto questa grande scelta di come dire colpire questo moloch pubblico che ci costa tanti soldi nelle tasse invece di intervenire io sono molto lamalfiano nella mia impostazione politica nel senso che qualcuno di voi ricorderà diciamo il riformismo del secolo scorso in cui io mi riconosco perfettamente cioè la fatica del governo serio la fatica del guardare le carte dell'aggiustare del migliorare le cose a un certo punto la scelta politica è stata quella di non fare più questo lavoro ma andare fortemente con l'accetta e andare incontro alla pancia del paese che con le difficoltà economiche poi con la crisi chiede lasciatemi in tasca più soldi che posso e per lasciarti in tasca più soldi che posso devo ridurre il più possibile la spesa per i servizi pubblici nel caso universitario questo a mio avviso è la tesi che illustra il libro è profondamente sbagliato è profondamente sbagliato il sistema inglese a cui noi ci ispiriamo moltissimo è fortemente discusso in quel paese ed è un sistema classista è un sistema classista perché le scelte politiche adesso non voglio buttare diciamo nella politica di oggi ma diciamo non c'è la scelta per il popolo le scelte politiche sono sempre scelte che possono andare a favore di uni o contro gli altri ormai mi sono impegnato lo dico se faccio la flat tax prendo i soldi dalle tasche dei poveri e le metto nelle tasche dei ricchi su questo non c'è alcun dubbio se faccio le politiche per una riduzione dell'investimento nell'università pubblica anche con l'università privata va benissimo per la mondiale non è quello il problema il problema è far pagare alle famiglie e mettere in relazione con le imprese troppo il sistema le relazioni con le imprese sono ottime ma è chiaro che a Bario a Cagliari abbiamo molte meno imprese con cui relazionarci rispetto a Padua e Milano una politica pubblica deve equilibrare questo e questa è la grande scelta che è stata fatta e questa è la grande scelta che è stata fatta e a mio avviso e diciamo il caso dell'università è straordinariamente interessante perché chi ve l'ha detto così chi ha detto facciamo questa scelta nessuno nessuno si è presentato alle elezioni dicendo facciamo questa scelta questo processo di riduzione e contrazione come il servizio sanitario nazionale sta avvenendo con un processo politico straordinariamente interessante molto regolamentare non è la riforma gelmini del 2008 quella che produce tutti questi effetti sull'università quella è noiosissima non ne parliamo c'è alcune cose buone alcune cose meno buone sono più quelle meno buone e diciamo il lavorio regolamentare e normativo che è stato fatto sono gli allegati ai decreti ministeriali che nel mondo della sanità o nel mondo dell'università intervengono quindi una politica molto scura che viene fatta e a mio avviso una politica che va nella direzione sbagliata perché al nostro paese serve una cosa sola investire dobbiamo tornare a investire investire nella difesa del suolo investire nelle reti digitali investire nelle reti ferroviarie e magari pure in tutte le regioni e investire nella cosa più importante che abbiamo cioè nella conoscenza delle nuove generazioni dovessi diciamo riprendere le cose di cancellato e dire come ne usciamo dov'è la soluzione dobbiamo tornare a investire come negli anni 50 e negli anni 60 dobbiamo recuperare lo spirito di un paese indebolito da una grandissima crisi perché siamo stati colpiti anche senza averne tante colpe da una crisi straordinaria che però è arrivata a un certo punto dice ma io che faccio allora qui ci sono due grandi scelte a mio avviso che non si rispecchiano diciamo in partiti politici questo è un bel problema no? ma sono due grandi scelte una grande scelta è dire contiamo esclusivamente lasciamo i soldi in tasca alla gente e fate quello che volete l'altra scelta è torniamo a investire anche con intelligenza con misura con qualità nei grandi servizi collettivi per tutta la cittadinanza io non conosco paesi che siano cresciuti che abbiano fatto dei grandi balzi di crescita senza volerli senza avere un'idea di sviluppo e senza mobilitarsi nel lungo periodo per questi investimenti quello che ci uccide è che ormai la nostra vita politica va di giorno in giorno di ora in ora se siamo fortunati di settimana in settimana mentre nei tempi migliori nostri e nei tempi migliori che sicuramente verranno a breve la vita politica deve andare di quinquennio in quinquennio dobbiamo tornare a guardare lungo ecco perché non è un paese per giovani perché è un paese per giovani perché i giovani degli anni 50 o i giovani degli anni 70 avevano una vita così facile ognuno aveva i suoi problemi ma vivevamo in un paese che aveva più fiducia in se stesso e si guardava più avanti l'università è la storia di questo perché investire nell'università significa investire nel benessere di persone nel 2060 perché le persone che io laureo oggi lavoreranno ancora nel 2060 noi dobbiamo recuperare questo sguardo lungo e credo che usciremo sicuramente dalla crisi perché lo recupereremo ma è un problema politico non di 5 stelle la lega il PD non di partiti è un problema politico di costruzioni di grandi infrastrutture collettive e di investimento nel lungo periodo questa è la radice della crisi italiana il momento in cui abbiamo ci siamo disillusi non vale più la pena teniamoci i nostri soldi andiamo avanti ognuno per conto suo tanto ce la faremo no i paesi seri sono paesi che a seconda delle preferenze dei cittadini hanno una vita privata individuale vivace e gli italiani sono molto vivaci in questo ma hanno un percorso comune un investimento comune a mio avviso ed è un'idea politica è quello che ci manca Allora prima di dare la parola al pubblico chiedo anche a Francesco visto che Gianfranco ha chiuso il suo intervento con la parte più costruttiva ti do anche a te questa opportunità di dire qualcosa sulle soluzioni se avessi la possibilità adesso di parlare con il capo del governo con Giuseppe Conte o con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che è un capo di un governo che si autodefinisce del cambiamento e quindi che non ha paura di questo termine che invece forse ci ha frenato nel passato che cosa in pochi minuti suggerisci facendo quindi una sintesi del tuo capitolo finale che si parla di una ripartenza io suggerirei di non usare la parola soluzioni nel senso che non esiste una soluzione non ci sono bacchette magiche non ci sono schiocchi di dita che cambiano le cose diceva il professor Viesti il tema è eminentemente politico non esistono le soluzioni esistono le politiche le politiche si fanno su tempi lunghi si fanno su orizzonti coerenti si fanno attraverso la mobilitazione dei corpi sociali si fanno attraverso un processo lungo di costruzione e di contaminazione del tessuto sociale ed economico aggiungo un'altra cosa che buona parte delle politiche che noi vediamo in tutta Europa questa è la seconda buona notizia quando i paesi affrontano queste tematiche e le prendono di petto aprendosi ovviamente a ventaglio su scuola welfare e mercato del lavoro quindi e innovazione quindi andando a ventaglio su tutti i quattro assi che costruiscono la competitività di un paese che si fonda sul capitale umano come ad esempio il nostro ma come in generale tutte le economie europee che non possono contare su grandi dimensioni su grandi fonti energetiche su una finanza che stampa denaro e su condizioni di partenza che generano naturalmente crescita economica e con le nostre economie che si fondano sul capitale umano nel momento in cui affrontano queste quattro tematiche tutte assieme a ventaglio hanno risultati a volte straordinari io faccio due esempi nel libro in particolare uno di un paese a noi molto vicino che è la Francia uno di un paese abbastanza diverso dal nostro ma una piccola economia interessante che è quella estone la Francia è un paese che ha investito tantissimo nell'innovazione l'ha fatto prima col governo Hollande adesso lo sta facendo col presidente Hollande adesso lo sta facendo sotto la presidenza Macron Macron stesso parla di start up nation l'idea di fondo della Francia è stata quella di a creare una banca pubblica degli investimenti che fra l'altro sottolineo è una delle idee che ha in testa in particolare Davide Casaleggio riguardo alla cassa depositi e prestiti quindi è qualcosa di cui sentiremo parlare secondo me nei prossimi mesi in grado di generare non investimento diretto sulle imprese quindi non lo stato imprenditore ma un ecosistema per l'innovazione in secondo luogo una normativa che peraltro anche noi abbiamo che è quella della facilitazione dell'investimento privato in start up noi abbiamo un gigantesco problema sul tema della start up economy che non è fuffa che è una cosa estremamente seria la nostra start up economy si ferma a dei tassi di investimento molto bassi il nostro venture capital cuba più o meno 200 milioni di euro all'anno il che vuol dire su 2.000 3.000 5.000 start up tanti piccolissimi finanziamenti lo chiamano seed capital cioè il capitale del seme quello che viene messo per cercare di far cermogliare la piantina il problema è che quando l'impresa scala cioè quando diventa la start up diventa impresa lo fa con gli investimenti da 50 milioni in su regola numero 1 su 2.000 start up 1.000 falliscono 1.000 vivacchiano 20 anzi 980 vivacchiano 20 sono in una fase in cui possono fare scale up cioè avere finanziamenti da 50 milioni prendono la valigetta vanno in Inghilterra si stabiliscono a Londra o a Parigi o a Tel Aviv o a Lisbona o a Shenzhen o a Singapore dove volete voi o nella Silicon Valley ed è lì che ricevono il finanziamento di 50 milioni ed è lì che generano ricchezza generano quei 5 posti di indotto per ogni posto occupato da un lavoratore ad alta intensità di capitale umano che racconta ad esempio Enrico Moretti del Nuove Geografia del Lavoro quindi che generano sviluppo la Francia la Francia lo sta facendo la Francia è passata dal 2014 al 2016 da 200 milioni investiti in start up a 2,2 miliardi investiti in start up in 2 anzi in 3 14-16 in 3 soli anni questo l'ha fatto anche con un pesante investimento nella scuola a livello programmatico noi ricordiamo che Macron ha vinto le ultime elezioni presidenziali promettendo 50 miliardi sulla formazione 50 miliardi sono quello come diceva il professor Viesti che dovrebbe costare la nostra flat tax ha vinto dicendo metto 50 miliardi sulla formazione noi l'unica spending review che abbiamo fatto quella di Giarda e Bondi 2012-2014 abbiamo tagliato lineari del 2% tutte le spese tutti i capitoli di spese dello Stato tranne uno la formazione che l'abbiamo tagliato del 10 questo che sia chiaro che l'esito di scelte politiche è che sono lì e che gridano vendetta ogni giorno e che in qualche modo tutti i giorni dovremmo ricordarci quando diamo la colpa all'euro ai mercati alle cavallette ai marziani altro tema l'Estonia l'Estonia era un paese un'economia piccolissima forse con la posizione peggiore in cui può essere un paese piccolo in mezzo a la Scandinavia la Russia e la Germania tre giganti che tirano a sé qualunque cervello ci sia in Estonia infatti l'Estonia aveva un tema di brain drain cioè di fuga dei cervelli che era estremamente superiore a quello italiano aveva un corpo docente demotivato delle scuole estremamente inefficienti ora che ci crediate o meno oggi l'Estonia e qua parlavamo del 2005 più o meno a distanza di 13 anni se guardate i test PISA che sono i test dell'OX che misurano la bontà di un sistema scolastico che valutano l'efficacia nelle varie materie di un sistema scolastico l'Estonia si situa tra il quarto il quinto e il sesto posto più o meno in tutte le materie scientifiche e tecnologiche e digitali e innovative e dall'Estonia viene ad esempio una start up una allora start up come Skype e dalla Svezia che è un altro paese che ha investito in tecnologia viene un'altra start up come Spotify in Italia non abbiamo una sola unicorn cioè una start up capitalizzata a più di un miliardo di euro se si accettua l'UX che è comunque partita con un finanziamento iniziale di 8 milioni di euro contro i 250 milioni di euro con cui è partita il suo omologo tedesco che è Zalando cosa ha fatto l'Estonia? l'Estonia ha preso il suo sistema scolastico e l'ha ribaltato come un calzino ha fatto quello che loro chiamano il salto della tigre il Tiger Leap in Estonia si chiama Progetto Tigre il salto della tigre è proprio un balzo gigante in avanti ovviamente lo fai su tutta la popolazione ci sono due cose sull'Estonia che secondo me sono interessanti la prima è che per cambiare il sistema scolastico l'Estonia ha avviato un processo di digitalizzazione della popolazione da 0 a 99 anni cioè non è partita come noi dall'idea che la scuola esista solo dai 6 ai 25 anni e che tutto il resto non conti da noi quando si parla di digitale noi abbiamo un presidente del consiglio infatti peraltro che nel suo discorso di insediamento al senato ha detto che internet è il futuro cioè siamo più o meno nel 1985 in questo momento in Italia ma a parte quello il sistema Estone è un sistema che si è interessato di far imparare internet agli anziani perché alla pubblica amministrazione agli insegnanti intanto hanno raddoppiato gli stipendi degli insegnanti prima cosa che hanno fatto un insegnante in Estonia che è un paese che ha un costo della vita che è più o meno la metà di quello italiano prende 1250 euro al mese più o meno quanto prende un insegnante di scuola superiore italiana a occhio ma ha inserito tutta una serie di competenze fino anche alla programmazione questa è un po' diciamo la novità e con una fortissima fortissima incidenza delle materie scientifiche sui programmi scolastici a partire dai primi anni di età fino ad arrivare a un'idea di formazione continua che arriva fino in fondo all'età di una persona perché è questo? Primo perché tu devi ricollocare in un mondo che cambia anche i lavoratori cinquantenni sessantenni che perdono il posto di lavoro non è banale creare potenzialmente un esercito di disoccupati tecnologici anziani è il primo disincentivo a investire in tecnologia in un paese perché se io investo in tecnologia in questo paese se io creo le fabbriche 4.0 l'operaio che poi viene licenziato in un'altra fabbrica in quella fabbrica non ci può lavorare perché non conosce internet se io faccio sono in un paese in cui gli anziani non sanno usare internet è una pubblica amministrazione di 48,1 anni di età la più anziana del mondo togliendo con dentro diciamo le forze dell'ordine se togliamo le forze dell'ordine le forze militari le forze armate abbiamo quasi 55 anni sono amministrazioni pubbliche che non hanno la più pallida idea di cosa sia un email che ancora oggi quando qualcuno ad esempio chiede alla Farnesina ha chiesto alla Farnesina come si faceva a entrare diciamo a fare entrare la propria lista di invitati nella celebrazione dei 60 anni dell'Unione Europea diceva basta che mandate un fax silenzio l'altro capo del telefono in altri paesi il fax più o meno non esiste da 20 anni quindi in realtà se uno parte dal presupposto e penso che sia l'unico consiglio che posso dare di riformare completamente di girare quella macchina che va contro mano e non dire semplicemente careniamola perché la nostra natura è andare contro mano andare contro mano si va si rischia di più si va più piano e si va nella direzione sbagliata anche se la careniamo mille volte quella macchina comunque va più piano comunque rischia e comunque va nella direzione sbagliata se tu giri la macchina con riforme importanti strutturali pesanti e soprattutto integrate tra loro e che pensano non che la digitalizzazione è un affare per giovani e che non pensano ad esempio che la pubblica amministrazione sia un affare per vecchi e che non pensano e questo è un salto culturale che dovremmo fare che le retribuzioni i meriti e la qualità di un lavoratore cresca al crescere dell'età ma cresca in funzione delle competenze che uno ha e che uno può formarsi nel corso dell'età e comincia a capire che la nostra è una vita che è fatta di transizione tra una fase e l'altra e non è semplicemente una vita che corre lineare e che mia figlia la prima è del 2010 quindi è già in quella popolazione che è iniziata nel 2007 che ha un'aspettativa di vita di 100 anni adesso vi invito a riflettere su questo in 100 anni con tutte queste rivoluzioni culturali quanti cavolo di lavori cambierà mia figlia posso pensare che una laurea in psicologia giurisprudenza economia quello che vuoi fisica presa 25 anni determini tutta la sua vita probabilmente si dovrà rilaureare a 50 anni probabilmente dovrà rifarlo a 60 anni dovrà cambiare mille volte il suo percorso di vita e di lavoro noi dobbiamo creare un paese che dia questa opportunità che abbia questo sguardo lungo ma è uno sguardo lungo che non puoi affrontare se non lo affronti con visione e se non lo affronti nell'idea che deve essere per tutti perché la questione generazionale non è una questione dei giovani è una questione che riguarda tutti e la valorizzazione del capitale umano è una questione che riguarda tutti grazie grazie Francesco a questo punto direi che abbiamo ancora qualche minuto per qualche ulteriore approfondimento che può arrivare da vostre sollecitazioni e quindi vi cedo il microfono ci sono tanti temi che abbiamo appena sfiorato effettivamente siamo andati un po' lunghi quindi li abbiamo stonato però c'è il tema del meridione il tema delle donne e tante altre cose che se non c'è nessuno io guardo ok direi che possiamo veramente ringraziare calorosamente Gianfano posso fare un minuto come no prego chiosa di dieste una considerazione perché noi nati prima del 1980 con l'età diciamo cominciamo a perdere colpi però assumiamo anche diciamo la bellezza dell'uomo maturo che è anche un uomo molto autocritico che ride di se stesso e io rido molto del fatto che faccio l'avvocato delle cause perse perché sono tanti anni che mi occupo di sviluppo del mezzogiorno e di sviluppo delle regioni ad età e adesso ho messo insieme anche l'università e sono a posto perché sono andato a prendere sorrido però vado avanti perché questo è il punto chiave la prossima volta che ci vediamo parliamo di demografia e dunque della grande preoccupazione perché io sono sicuro che ce la faremo ma sono anche molto preoccupato la grandissima preoccupazione per l'Italia ma soprattutto per il sud e le isole del futuro che si disegna e dunque la centralità assoluta nei prossimi anni della questione di dove e come vivono i giovani questo è il punto chiave perché Cagliari Napoli Bari ancora ce la fanno perché sono ancora delle città giovani in un territorio che è molto meno giovane ma quello è il punto chiave l'università è un elemento centrale per la formazione che fa e per i giovani che ci girano intorno ma questo è il punto chiave ci giochiamo tutto nei prossimi dieci anni su come riusciremo a fare sempre di più di Bari e di Cagliari delle città per giovani nelle quali poi magari cercheremo di uscire perché sapete che la Puglia e la Sardegna insieme alla Sicilia sono ultime in Europa per percentuale di giovani laureati ultime compresa la Bulgaria l'Estonia e dunque questo è un tema fondamentale Stefano con quale diciamo io vi ringrazio moltissimo il punto centrale di quanti e quali giovani che girino che vadano anche fuori a studiare ma che ne vengano a studiare che vadano e che tornino che si muovano ma dobbiamo tenerli nelle nostre città le politiche urbane e le politiche regionali devono essere centrate tutte su questo tema e cioè avere delle città per giovani di giovani questa è la politica più importante di investimento che possiamo fare noi che diciamo siamo nati prima nel novecento ottanta sul nostro futuro che sarà ancora lungo e felice ancora grazie a tutti per l'attenzione grazie ringraziamo ancora i nostri ospiti l'incontro è terminato grazie a tutti per essere stati qui stasera grazie a tutti